Non ci alleniamo solo per una questione estetica, l'allenamento è fondamentale e oggi alleneremo tutto il corpo, braccia, gambe, cosce, glutei e a spiegarcelo sarà Ademaro Lera. Cos'è il core in gluteus? Il core in gluteus è una disciplina ideata da me dove andiamo a lavorare con grande controllo e grande concentrazione il gluteo, la parte bassa, la parte alta e la parte laterale, dipende chiaramente dagli esercizi che andiamo a fare lavoriamo per ottenere dei risultati di qualità che durino poi nel tempo. Oggi abbiamo usato pesetti e cavigliere, ma come facciamo a capire qual è il peso adatto a noi? Dipende dalla preparazione muscolare di ogni singolo partecipante. Le persone che possono essere un pochino più allenate possono anche usare dei pesetti oltre il chilo. Direi che le persone meno allenate debbano usare un peso sicuramente inferiore per non farsi del male e ottenere dei risultati di qualità. Più peso, più controllo e più concentrazione. La concentrazione giusta e il controllo giusto per ottenere quei risultati e non farci del male. Ricordatevi che una vita sedentaria può portare a dei problemi come la riduzione del tono muscolare oppure problemi cardiocircolatori. Quindi allenatevi e sotto col core in gluteus. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.